Oh, bello a tutti raga, oggi siamo sotto nella nostra postazione, anche per oggi il gris screen non ce l'avremo perché purtroppo lo sto pulendo, per qualche giorno ancora non ce l'avremo Vi ricordo che dovete fare un video per chi vuole ovviamente, vi ricordo che per chi vuole potete fare il video degli speciali 3000 E oggi prima di iniziare questo bellissimo video, volevo dirvi che mi è successa una cosa, cioè tipo particolarissima Mi sono arrivati un botto di commenti da delle persone che sono finite in un video di Crazy Mud, raga vi lascio qua un attimo la clip Tipo la faccia, la forma di pallone sgolfi, poi sotto e mezzo 9 Cosa? Sì, ci avevo dato 9 e mezzo l'altra volta Second te rimane uguale o è cambiato? Oh eccoci qui, abbiamo appena finito il video di Crazy Mud, vabbè a parte scherzi raga era comunque uno scherzo, mi raccomando lasciate un piccolo like nutriente E ora iniziamo col vero video, 5 celebrità però diciamo celebrità per indicare youtubers abbastanza conosciuti E io ovviamente dato che sono 5 partirei da quello diciamo più importante, quindi Capitan Blazer Praticamente lo conoscono molti comunque, non pochi Allora come prima domanda scomoda secondo me, ne dubito che mi risponderà Però potremmo chiedere se ha perso la verginità Quindi chiediamo se è vergine Facciamo questa domanda E poi dico, scriviamo Magari che ne sai, magari mi ha visto qualche volta Ne dubito però, magari Qualche volta Ecco, e dopo aver chiesto questa domanda Aspettiamo nel vago Nell'invano tentativo Che lui mi possa rispondere Quindi, se non ci sono altre domande Passiamo al secondo Alla seconda persona Beh, come seconda persona ovviamente sempre riguardando Capitan Blazer Secondo me potremmo fare Che ne so, Zervian Oh eccolo qua, eccolo qua Zervian Scriviamo secondo me Sì già raga, avevo scritto una volta una cosa Però non mi ha mai risposto Quindi proviamo a fargli una domanda importante Che potrebbe essere Non per forza scomoda Non lo so La tua scena Peggiore di vita Non lo so E anche qui scriviamo Magari Magari che ne so Scriviamolo meglio, ecco Sono Giova GT Eccoci Sì Speriamo nel vago In tentativo Anche che Zervian ci risponda E ora passiamo alla terza persona Come terza persona Magari raga Ha detto che Abbiamo iniziato il video Bello sostanzio Secondo me potremmo iniziare con Crazy Mud Eccolo qua Crazy Mud Ho conosciuto anche come Salvatore Sardo Secondo me sì Scriviamo una bella cosa Allora Ho visto che sta facendo un po' troppi video Sempre Crash e Crash Che poi A me sinceramente L'italiano non mi dispiace Quindi secondo me Magari al posto di chiamare Crash O scrivere ragazza Secondo me non mi faceva schifo Però sono dei punti di vista Allora Secondo me potremmo chiedere Ma tu Ma tu Quanti soldi Fai Al giorno Ecco Domanda scomodissima Per gli youtubers Soprattutto per chi prenderà abbastanza Come lui Certo Se me l'ho chiedita a me Raga io prendo due centesimi al mese Quindi fate conto voi Secondo me Ok Quattro persone Secondo me come quarta persona Potremmo scegliere Non lo so Rimoldigno Mi stanno venendo così un po' a caso Raga Scusate se guardo il cielo Ma Allora Rimoldigno Dove stai? Eccolo qui Rimoldigno Non è che lo seguo tantissimo Rimoldigno Eccolo qui Eccolo qui Rimoldigno Secondo me potremmo chiedergli Quante ragazze hai avuto? Ma bocca ne so Quante ragazze? Sì vabbè raga Manco mi va pure a scatto il coso Hai avuto Poi metto magari bella Sono gioco Magari Non ho visto Non lo so Nelle tendenze No raga raga Vabbè Comunque Poi come quarta persona Raga Aspetta abbiamo fatto Cap E Zervian Scriverò anche a lui Los amigos Vai Los amigos Sì vabbè scritto anche male Ovviamente dimole messaggi Signori Scriviamo Scriviamo se ha mai picchiato qualcuno Non lo so Hai mai Picchiato Qualcuno Affinché Gli Uscisse Sangue Boh Non lo so Mettiamo anche il punto di domanda Signori Scriviamo ovviamente Che sono Giova Giti Magari Non lo so E Niente Abbiamo finito Signori Queste 5 persone È stato un video un po Come dire Snellino raga Perché non ho neanche tanto tempo Perché Avendo anche Molti video A registrare Per scuola Musica E un sacco di cose Raga Io sono molto preso in queste cose Quindi dato che È anche tardi Poi Tardi Cioè in realtà non è tardi Sono le 5 del pomeriggio per me Spero di pubblicarvelo entro stasera Sono pieno di roba raga Vi ricordo che Se volete partecipare Allo speciale raga Non scrivete Io partecipo Ma fate proprio il video Fatelo E pubblicatelo al più presto Perché Spero di pubblicarvelo Entro fine settimana O massimo Prossima settimana Io vi ricordo per la terza volta Che sabato Ci becchiamo Di mattina Comunque sabato E domenica Live per due giorni Vi ricordo di uscire un bel like Perché Un po' scarseggiano raga Ovviamente Tutto quello che volete Provate a scriverlo qua sotto Vediamo Un po' cosa fare E poi niente Ecco Signore abbiamo concluso E io vi saluto Qua sopra i due video E ci becchiamo in un nuovissimo video Un bello Ciao Un bello Chau Grazie a tutti.